1, 2, 1, 2, 3, 4 Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente o la curiosità di una ragazza irriverente che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente vuole scoprirsi avvero quel che si dice intorno ai nani che siano i più forniti della virtù meno apparente fra tutte le virtù la più indecente Passano gli anni i mesi e se li conti anche i minuti è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo fino a dire che un nano è una carogna di sicuro perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo Grazie a tutti! Buonelle notti insorni vegliate al lume del rancore che preparai gli esami e diventai procuratore per imboccare la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sacristia quindi alla cattedra ad un tribunale giudice finalmente arbitro in terra del bene e del male e allora la mia statura non dispensa più buon amore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio prima di genuflettermi nell'ora dell'addio non conoscendo affatto la statura di Dio grazie Andrea Agustinetti al basso grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!